Sono il papa di Valeria, Valeria autistico ed epilettico, la mamma ed io ci curiamo di lui da 50 anni, ma chi si occuperà di lui dopo di noi? Me ne occuperò io Quando verrà approvata la legge sul dopo di noi ce ne occuperemo tutti, uniscite a noi, firma su change.org Grazie